In un regionale pieno in ogni ordine di posto e in un conseguente clima di altri tempi, il Giarre di Giancarlo Fighera domina la Ciriale e vince il derby più sentito dei colori giallo-blu per 2-0. Il Giarre è quello titolare in ogni posizione, Dovara tra i pali, Curcuruto, Patanè, Famai e Villani in difesa, compagno e patti schermo davanti, con Monte e Leotta, Aliforti a supporto insieme a Capitan Mirelli di Daniel Aleo. Il derby si dimostra subito agonistico e per questo spezzettato dai falli. Al ventiquattresimo primo episodio di cronaca, sugli sviluppi di un calcio di punizione, tiro di Villani, respinta corta di Ferla e gol di Mirelli. Il capitano però, secondo il guardalinee, era in fuorigioco al momento del tiro. Il Giarre dimostra più volte di poter pungere i granata e al ventinovesimo Aleo su punizione sfiora il bersaglio. Tre minuti più tardi, stessa cosa per Patanè, che ci va più vicino del compagno. Sul finire della frazione, bello spunto di Aleo, cross dell'ottimo Villani e Mirelli al volo spaventa la curva acese. Agli ordini del signor Natilla di Molfetta ricomincia il secondo tempo con gli stessi uomini e la stessa filosofia. Il Giarre è in partita e pressa costantemente la difesa acese. La Cireale subisce cercando qualche manovra. Al cinquantacinquesimo bella combinazione, Monte, Aleo, Monte, ma nulla di fatto. Al cinquantasettesimo incredibilmente va vicino al vantaggio la Cireale su calcio piazzato dalla sinistra, ma Dovara dice di no e mantiene lo 0-0. Qualche minuto dopo e sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato cambia la partita. Sessantunesimo, il pallone arriva a Leotta che si libera del marcatore e fulmina Ferla sul proprio palo facendo esplodere la curva giarrese. Bastano 4 minuti e il giovane si ripete. Azione insistita di Aleo che vince un rimpallo, aspetta il momento buono per servire Leotta solo davanti al portiere. E Ferla non può nulla. 2-0 e pronostici della vigilia ribaltati. Il copione della partita però non cambia e il giarre pressa, anche se al settantottesimo Cocimano sfiora l'accorcio con un tiro al volo che però va fuori. 85 sul cronometro. Aleo entra in area e Ferla in uscita lo mette giù. Rigore sacrosanto che però lo stesso Aleo sbaglia allargando troppo l'angolo di tiro. L'ultimo sussulto della partita lo regala il difensore Granata Pettinato che all'ottantottesimo si fa espellere per doppia ammunizione. Una partita vinta dal giarre prima atleticamente che tatticamente con tre punti che proiettano i gialloblu al secondo posto del girone B di eccellenza insieme allo Scordia a quota 12 punti. Proprio davanti alla giriale.